Ciao, siamo partiti praticamente sull'Esplorer, siamo a Mirabilandia, oggi è domenica, si chiesto con noi oggi, domenica? Sette, è sette, abbiamo preso anche un bel po' di sole, bello! Bello! Eccoci qua, siamo sulla parabolica, vengo alla curva di Monsoo. era soltanto che cagato e' già finito? scusa, quello va in alto? che cazzo è? che è finito?